E torniamo prepotentemente, come al solito, sul grande Fratalo Hip, argomento del momento anche per questo mese, e c'è stata la bufera totale su Edoardo Dona Maria, tutto che gli gira intorno in maniera assolutamente negativa, lui ancora non lo sa, quindi partiamo da questo presupposto. Ma al di fuori della casa, un personaggio famoso, quindi uno conosciuto, ha pubblicato un video duro nei confronti del concorrente del reality show di Canale 5. E' stata una lunga imbettiva che sta facendo discutere e che aprirà sicuramente le porte ad aspre polemiche, ma quelle ci stanno. E ora il volto di forum, nel momento in cui sarà informato di tutto questo, insomma, nel momento in cui verrà conoscenza di tutto questo, potrebbe replicare già nella prossima puntata in diretta con il mitico Alfonso Signorini al timone. E i telespettatori sono già in trepidante attesa e te credo perché gli piace il chiacchiericcio che c'è e poi vuole vedere i casini che succedono. All'esterno del GFVIP 7 questo quanto dichiarato su Edoardo Donnamaria. A me sinceramente questo ragazzo comincia a fare pena perché evidentemente pieno zeppo di problemi psicologici, è molto molto insicuro perché ormai sono mesi che mi scredita agli occhi di Antonella per prendere punti. Ma una persona che scredita un'altra persona senza neanche conoscerla è evidentemente molto insicura. Quindi, non sta facendo una bella figura. Ma non è finito qui il suo attacco. Nel filmato contro il concorrente del GFVIP 7, Edoardo Donnamaria, questo noto personaggio ha continuato ad attaccare duramente il GFino sui social, come riferito da Isa e Kia, qualche settimana fa più di un utente mi ha girato dei video di lui che faceva addirittura la mia imitazione in mezzo al giardino. E lì non ho voluto dire niente, ma adesso pure questa cosa. Sinceramente mi sono rotto le PAA, mi prende sempre in giro che sono troppo muscoloso in maniera dispregiativa. Ma vatti ad allenare. A prendere di mira Donnamaria è stato l'ex di Antonella, Francesco Chiofalo, che ha risposto a queste parole di Edoardo, semplicissimo, tutto tatuato con un Rolex. Ignorante e fracido, tutto fisicato, sì umile. E Chiofalo ha aggiunto, io mi faccio un cuo così in palestra, ma che vuoi da me? Dire in maniera dispregiativa ad una persona che è troppo muscolosa è body shaming. Non ti fa onore una cosa del genere, per niente. Una cosa altra su cui mi offende sempre è sul fatto che io non sono intelligente, che sono un cretino, che lui è molto più intelligente di me. Infine, Chiofalo ha aggiunto su Donnamaria. Per me non sta facendo una bella figura, ancor meno ragionando sul fatto che lui queste cose non me le sta dicendo in faccia. Le dice alla mia ex, sto ragazzo va aiutato, è pieno zeppo di problemi, è insicuro. A me sinceramente fa pena. E questo è tutto per le sue dichiarazioni, grazie a tutti dell'ascolto e buona giornata.